salve a tutti ci troviamo a plaza de spagna a cariz e oggi sono qui per recitarvi una poesia scritta da me per il gioco manipulation infatti la poesia si intitola proprio manipulation e fa così sì questo è lo scopo dei potenti e lo sappiamo che sono petenti perché vogliono solo isolarti per poter meglio manipolarsi loro sono pochi contro noi tanti però sono furbi e benestanti e se capisci bene ciò che fanno è certo che eviterà l'inganno perché la vita sai passa in fretta quindi apri gli occhi dammi retta se poi comprendi anche la tua mente vivrai meglio e più tranquillamente basta riprogrammarsi il cervello con un gioco nuovo e birbantello così da solo ti manipolerai e dentro di te il tesoro troverai ciao a tutti da carizzo